Abbiamo visto come durante la gravidanza il nostro corpo va incontro a moltissime modificazioni. Questi cambiamenti interessano anche una parte del nostro corpo che non tutti conoscono, che è quella del pavimento pelvico. Per capire qual è questa parte del corpo, diciamo generalmente che è la parte che poggia sul sellino della bicicletta. Il pavimento pelvico è coinvolto in tantissime funzioni fondamentali per il nostro organismo. Sostiene gli organi della cavità pelvica. Partecipa attivamente alle funzioni di continenza. È fondamentale per la vita sessuale ed è molto interessato durante la gravidanza, il parto e il porperio. Per permettere al pavimento pelvico di svolgere tutte queste funzioni è fondamentale che le sue strutture siano in equilibrio. Ed è quindi molto importante riconoscerne i segni di benessere e le eventuali disfunzioni per permetterci di agire su tutte quelle abitudini che vanno a creare danni a queste strutture. Per questo fare una valutazione del pavimento pelvico è fondamentale, con un professionista dedicato che ci saprà poi indicare la strada giusta da prendere. La valutazione può essere fatta in qualsiasi momento della vita, ma è molto importante che venga eseguita soprattutto in gravidanza e dopo il parto. Vedremo ora un esercizio di propriocezione del pavimento pelvico, che ci permetterà di capire di quale strutture stiamo parlando e di come andarlo ad attivare. La posizione che possiamo scegliere è una posizione seduta con le gambe incrociate, come in questo modo, e un cuscino che può andarci a sostenere le ginocchia. Ora, è importante che il peso delle gambe sia sostenuto, quindi che una gamba scarichi il peso sulla gamba opposta. Da questa posizione stiamo ben attenti ad allineare la schiena, in modo che siamo poi tutte allineate con il nostro corpo. Dovremmo sentire le nostre ossa del bacino che poggiano sul cuscino o sul materassino dove stiamo facendo l'esercizio. Se così non dovesse essere, proviamo a spostare verso l'esterno i glutei. Una volta che sentiamo le nostre ossa che poggiano proprio bene sul materassino, ci immaginiamo di spingere verso il basso con le nostre ossa, mentre contemporaneamente pensiamo alla testa che viene tirata verso l'alto, in modo da mantenere questa posizione allineata. Da questa posizione cominciamo a respirare e portiamo l'attenzione sempre più in basso fino ad arrivare al nostro pavimento pelvico. Respirando, sentiamo che il nostro pavimento pelvico respira insieme a noi. Quando l'aria entra, sentiremo che il pavimento pelvico viene leggermente spinto verso l'esterno, mentre quando l'aria esce, ritorna alla posizione di partenza. Ci concentriamo facendo qualche respiro e facendo molta attenzione a questa sensazione. Poi, quando abbiamo capito e sentiamo molto bene questo movimento, proviamo ad attivare volontariamente il nostro pavimento pelvico. L'immagine che possiamo usare potrebbe essere quella di come facciamo quando tratteniamo la pipì. Quindi proviamo, mentre espiriamo, a fare questo movimento di trattenere la pipì. Dopodiché, durante l'inspirazione, quando l'aria entra, andiamo a rilassare. Grazie. Grazie. Grazie.